Grazie a tutti. I giorni scorsi, con tanti elementi di spicco dalla parte dall'altra, con tanti giocatori che possono deciderla con le loro giocate. Pochi minuti per il calcio d'inizio, noi siamo pronti e anche emozionati qui in cammina di commento perché questo è davvero un gran match. Preparatevi, ci parte. La presa che sta per finire, vedremo alla fine, chi avrà ragione. La spira a cui le due tifoserie tengono in maniera particolare, duello che adesso ovviamente si sposta dalle tribune al campo, vedremo chi avrà la meglio. Con me in telecronica, come sempre, c'è Lely Adani, club protagonista della spira che commenteremo oggi. Ci si attende molto da questa partita, speriamo si riveli appassionante. Il calcio è la nostra passione, è la nostra ragione di vita, Pier. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimelo tu. Io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Maduro Lewandowski Zana Occhio al traversone Attenta qui la difesa, palla allontanata Tiene avanti palla al piede Palla che si perde sul fondo, l'arbitro assegna la rimessa Ottima qui l'imbucata Il portiere dice di no Occhio al tocco in mezzo Ma su il pallone spazza via È in fuori gioco, si vedeva anche da qui, deve stare più attenta a queste situazioni Sì, stare fermi serve solo a semplificare il compito alla difesa Lewandowski La gioca profonda verso l'attaccante Intervento con i tempi giusti per spezzare la trama avversaria e recuperare palla Splendido lancio, attenzione qui Trova bene la profondità Palla in rete, è arrivato dunque il primo gol Replay del gol che ci permette di apprezzare meglio il lancio o a scavalcare la difesa Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore E non ha lasciato scampo al portiere Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 I Askelein Accompagnano l'azione E la messa ha trovato il primo gol proprio nel giorno del debutto Non ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente E' stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere Traversione al centro Azione che finisce qui Supera di netto il marcatore Ma non è che esce, si riprenderà con un calcio in angolo Corre il calciato davvero male, palla sul fondo Proseguono nella loro avanzata, vedremo cosa potranno inventare Manovra interrotta, possono rifiatare, pericolo scampato Maduro I Askelein Palla interessante, attenzione Occasione dalla bandierina per passare in vantaggio La mette in mezzo Allontana la minaccia Palla in out e nuovo calcio in angolo Buono il pallone tra le linee Da lì può far male Fischia l'arbitro e assegna il rigore Calcio di rigore dunque Ma niente cartellino come qualcuno dagli spalti voleva Decisione che mi trovo d'accordo Pier Giusto sanzionare il fallo con il penalty Ma non mi è sembrato un intervento da giallo Possono riportarsi avanti qui Rigore trasformato con freddezza Ponteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2 a 1 Sana Avanza inarrestabile Passaggio da dimenticare Palla alla squadra avversaria Intercetta palla, vediamo se la scruttano C'è la conclusione Respringe il portiere, pallone ancora buono Grande riflesso del portiere su questa conclusione ravvicinata Ha evitato un gol fatto Puro istinto e salva risultato Occhio al cross in mezzo E non si ferma più Doppietta nel giorno del debutto La regia ci ripropone l'azione del gol Partito tutto da questo calcio d'angolo Ha ricevuto palla a pochi metri dalla porta A quel punto è stato un gioco da ragazzi Metterla alle spalle del portiere Le due squadre sono di nuovo in parità Davvero una partita che regala emozioni Richter Avanzano a caccia del momento giusto Provo a metterla in mezzo La allontana Palla interessante in profondità Allontana la traiettoria del pallone Iaskelein Intercetta in lancio e riconquista parla La deviazione del portiere sopra la traversa Hanno l'occasione della bandierina per mettere la freccia Il pubblico ci crede e continua a incitare la loro squadra La mette in area La mette fuori su questo corner La regola del vantaggio si gioca Senza problemi Intervento comodo del portiere C'è l'offside Interviare l'arbitro che ferma il gioco Forse poteva ritardare un attimo il passaggio Qui per cercare di evitare il fuorigioco Valbuena Il quarto uomo segnala due minuti di recupero Iaskelein Interviare il portiere risolve una situazione veramente molto complicata Arbitro che pone fine alla prima frazione di gioco Il quarto uomo segnala due minuti di gioco Sì, sì, sì. 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 Il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Recupero palla determinante, potevano andare veramente in porta qui. Ottimo l'intervento, palla in falo laterale. Pallone che ha superato la linea laterale. Occhio al pallone per il pallone. Palla che finisce in rete, Hartrick, è un debutto da incorniciare. Rivediamo il gol da un'altra angolatura, un concentrato di rapidità, opportunismo, senso della posizione, ha avuto un sacco di spazio e ne ha approfittato. Buona lettura qui, pallone recuperato. Prova dalla distanza, senza problemi il portiere, fa su il pallone. Può essere il pallone del pareggio. Dicca Koi. Un buon tackle, recupera palla. Ritter. Valbuena. La legge è bene, ferma il passaggio. Valbuena. Possono colpire di rimessa. Entra con i tempi giù, si è riconquista il pallone. Dicca Koi. Sanna. È in buona posizione. Valbuena. A metri per avanzare. Si appoggia dietro. Si molla e respinge. È in ottima posizione. E c'è il gol, il terzo di una giornata sensazionale per lui. E questo è un gol che merita di essere rivisto. È da sottolineare la prontezza e l'esecuzione sul passaggio all'indietro del compagno. Era difficile, è mancare il bersaglio da quella distanza. Aveva un ampio specchio di porta dove piazzare il pallone e non ha sbagliato. Iaschelaine. Maduro. Soperata la metà campo. Interviene al momento giusto e recupera. Possono prendere in contropiede la difesa. Recuperano palla. A metri lungo l'out. Cerca di sorprendere il portiere. Da volare spinta il pallone è ancora buono. Se la cavano senza problemi. Palla recuperata, attenzione. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. E c'è il gol! Magnifica conclusione al volo! Trovano il gol del vantaggio delle fasi conclusive del match. Nikakoi. Si fa vedere in avanti. Si è trovata sulla traiettoria. Al posto giusto nel momento giusto. Intercetta l'ennesimo tiro avversario. Iaschelaine. Avanza la caccia del gol del pari. Non c'è più molto tempo. Salla contraerea. Tutti i saltatori per sfruttare questo corner e cercare il pareggio. Bravo qui il difensore che allontana. Ancora un'occasione dalla bandierina. Occhio al pallone in mezzo. Palla rubata in una zona pericolosa. Trova a calciare. È arrivato il gol! Incredibile! Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Guadagnano la dimessa laterale. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Non si accontentano del pari. Vedremo se proveranno il gol partita nei minuti finali. Buona l'uscita del portiere sul cross. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Ci saranno due minuti di recupero. Dicca Koi. Lewandowski. Jaskelheim. A spazio lungo l'out. Palla che supera la linea. Sarà rimessa laterale. E dunque continua l'adrenalina con i tempi supplementari. Tu reais è libero. нужna l'adrenalina.